Comandante, litigio notturno tra Massimiliano e Alessio, scintille e parole dure, ecco cosa è accaduto. La conclusione del Grande Fratello è stata pervasa da colpi di scena, a partire dall'eliminazione di Anita Olivieri e dall'annuncio di Massimiliano Varrese come terzo finalista. Nonostante l'attore abbia espresso gratitudine per il sostegno dei fan, non sono mancate le controversie, soprattutto con Alessio Falsone. Scambio di parole accese tra Massimiliano e Alessio. Durante la puntata, Massimiliano ha nominato Falsone per alcuni comportamenti che non ha gradito, scatenando una discussione al termine dello show. Seduti intorno al tavolo, altri coinquilini, tra cui Varrese e Garibaldi, volevano celebrare la festa del Papa. Alessio si è lasciato coinvolgere e ha iniziato a lamentarsi con Massimiliano, dando vita a un confronto acceso. Massimiliano ha definito Alessio insicuro e ha detto, mi dai fastidio, stai lontano da me. Sei la persona sbagliata, te lo dico sinceramente. Perché qui dentro l'insicuro sei tu? Alessio ha replicato, allora vieni fuori con me e vivi la vita reale. Massimiliano ha invitato Alessio a non vantarsi, hai dimostrato qualcosa nella vita? Scendi dal piedistallo e smettila con l'arroganza. Vieni qui e mostra chi sei veramente. Sei entrato qui in modo furbo. Anche Federico Massaro contro Falsone, come già osservato, non mancano le tensioni tra Alessio Falsone e il modello Federico Massaro. Anche lui si è schierato contro Alessio nella discussione con Varrese. Prima di andarsene, ha lanciato parole incisive ad Alessio. La tua arroganza e insicurezza. Anch'io ho subito bullismo, ma non trattavo le persone con arroganza. Sei diventato ciò che ti hanno fatto credere. La pace tornerà tra gli inquilini? Lo scopriremo presto. La puntata finale di questa edizione del Grande Fratello è sempre più vicina.